Ciao a tutti dalla Strana Casa, il negozio di costumi, maschere e travestimenti di Genova Quarto. Tanti nostri clienti ci chiedono di poter acquistare una maschera che li renda veramente riconoscibili ai bambini. E allora noi abbiamo pensato di proporre la versione natalizia delle nostre famose maschere Moving Mouth, di cui vi invito ad andare a vedere gli altri caratteri, gli altri personaggi nel nostro canale YouTube Carnival Halloween YT oppure, se avete intenzione di acquistarle, di andarle a cercare sul nostro sito di vendita online, CarnivalHalloween.com. Dicevamo della versione natalizia, la versione di Babbo Natale, delle maschere Moving Mouth. Queste maschere che hanno la particolarità di essere realizzate grazie a un brevetto americano in un lattice molto molto elastico, molto molto sottile, che si attacca al viso praticamente della persona quando le indossate e consente veramente di cambiare espressione. Sarà molto molto difficile, come vedrete, con questa maschera che i bambini vi riconoscano. Attenzione alla voce, vi presento subito un esempio, ne indosso una e vedrete che rimarrete impressionati della qualità. Vedete che la maschera, proprio grazie a questo brevetto, questo lattice sottilissimo, la maschera rimane aderente al vostro viso e soprattutto muove la bocca. Ora mi avvicino un po' alla telecamera per farvi vedere come veramente cambi il viso. Un suggerimento per renderla ancora più realistica, la maschera si può completare con un filo di trucco sugli occhi che richiami, chiaramente, riporti il colore della vostra pelle sul colore del lattice con cui del lattice della maschera. Tenete sempre presente che il nostro è lattice naturale, il lattice delle nostre maschere è lattice naturale, anche se con questo brevetto particolare, e quindi può essere completamente truccato, anche se voleste proprio cambiare la tonalità di colore. Però vedete, la particolarità della maschera è che si muove, quindi il vostro Babbo Natale, anche con uno dei nostri costumi, o se avete già il costume, diventa veramente un Babbo Natale estremamente, estremamente credibile, estremamente credibile. Questo è uno dei tanti prodotti che trovate in vendita sul nostro sito, carnivalhalloween.com, vi invito ad andare a fare un browsing per vedere se trovate articoli di vostro interesse, oppure a venirci a trovare, ricordatevi, siamo la strana casa, ci trovate sul nostro sito lastranacasa.com, sito pubblicitario, siamo a Genova 4, praticamente a 5 minuti dal casello autostradale di Genova Nervi. Sullastranacasa.com trovate le indicazioni per raggiungerci. Grazie, vi aspettiamo!